Il quarto è più esterno. Il lato durerà un'altra trentina, ma se non si provvede, scomparla pure che l'ultima. Grotta di San Michele Arcangelo, o Levano sul Tusciano, ciclo di affreschi del X secolo. Non si può trasmettere l'emozione di stare in questo posto. Una delle tante cose nascoste d'Italia. Dalla bellezza toglie il respiro. Ci si arriva per un cammino meraviglioso nella montagna. E ci si trova di fronte a questi capolavori artistici unici al mondo. Quanti amici di Argentina, ci si trova più o meno a 150 km di mia casa. Io non lo conosco. E' incredibile arrivare qui. E qui sta il ciclo di tutta la vita di Gesù. Come vedete in fondo è l'apertura della grotta. Qui continuano gli affreschi. Aggiornati. Ho aggiornato. Ho aggiornato. Ho aggiornato. Ho aggiornato. Il lavoro. Questa è un appartamento. C'è un appartamento. C'è un appartamento. Un giardomobile notato, che faceva di rinconcare la raccolta. Cosa diceva? si racconta inizia dall'annunciazione della gelovia di Maria con l'avangelo